Esiste una correlazione tra disturbo da deficit di attenzione e iperattività diagnosi e posizione di classe in termini di età. I bambini che sono i più giovani nella loro classe sono diagnosticati con disturbo da deficit di attenzione e iperattività, disturbo da deficit di attenzione e iperattività, il 60% in più rispetto ai bambini che sono i più anziani della classe, portando i ricercatori e credere che l'immaturità naturale degli studenti più giovani viene spesso scambiata per sindrome da deficit di attenzione e iperattività. Si stima che più di un milione di bambini negli Stati Uniti sia stato erroneamente diagnosticato con disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Ulteriori informazioni sul disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Quasi il 10% dei bambini negli Stati Uniti di età compresa tra 4 e 17 anni sono stati diagnosticati con disturbo da deficit di attenzione e iperattività sono quasi 5 milioni di bambini in totale. Gli Stati con il più alto numero di bambini diagnosticati con disturbo da deficit di attenzione e iperattività sono la Carolina del Nord, Alabama, Louisiana e Delaware. Il Nevada è lo Stato con il minor numero di diagnosi di disordine da deficit di iperattività e la maggior parte degli Stati del Sud-Ovest ha meno dell'8% dei loro bambini con diagnosi di disordine da deficit di attenzione e iperattività. I ragazzi sono più del doppio delle ragazze a ricevere un deficit di attenzione e iperattività diagnosi del disturbo, e i bambini ispanici hanno il più basso tasso di diagnosi del disturbo da deficit di attenzione e iperattività dei principali gruppi demografici.